Si è già aperto il calciomercato per la FC Rieti. Infatti dopo l'addio di Gai si cerca un sostituto al giocatore argentino che per due anni ha vestito la maglia Maranto Celeste. Il sostituto potrebbe essere Barone, mediano partenopeo che proviene dalle fila della lupa Castelli Romani. Il DG Andrea Fedeli, dopo l'annuncio del padre Franco che rimarrà al timone della squadra, ha già scambiato qualche battuta con lo stesso Barone che, senza altri colpi di scena, potrebbe davvero approdare in Sabina. Un altro addio tuttavia si sta per consumare tra le fila del Rieti. Daniele Crescenzo, infatti dopo una stagione con l'FC Rieti, lascerà la squadra Sabina.